Era una decisione che mi era stata comunicata e pur se non condivisa io non potevo procedere con le dimissioni in quanto io al di là della nomina del sindaco che il ruolo del vice sindaco riveste, io ho un forte mandato elettivo e non potevo rompere un patto con i cittadini solo e semplicemente per un disguido tra me e il sindaco. Il giorno dopo la sua rimozione dalla carica di vice sindaca di Pietrasanta Elisa Bartoli spiega così la sua rottura con il sindaco Alberto Giovannetti e soprattutto spiega perché non ha voluto dimettersi spontaneamente come lo stesso primo cittadino aveva suggerito. Forte delle 271 preferenze raccolte alle amministrativi del 2018, eletta nella lista della Lega, terza di tutto il centrodestra, Bartoli che in quest'ora ha raccolto i ringraziamenti per il suo lavoro da parte della consulta del volontariato si dice rammaricata per i progetti che deve lasciare. Tanti progetti in cantiere che volevo portare a termine e che secondo me avrebbero avuto un enorme vantaggio per la cittadinanza e è quello che mi dispiace di più. Per il resto è stata un'esperienza di cui non rinnego niente, di cui sono fiera. Già iniziate intanto le manovre fra i partiti per la nomina del successore. Dal canto suo il sindaco Alberto Giovannetti, Forza Italia, conta di chiudere la partita a brevissimo, forse meno di una settimana. I contatti con gli alleati sono in corso, attendo dalla Lega un nome per l'incarico di vicesindaco. Serve una figura femminile per le quote di genere, ha affermato al TG Noi. Il commissario provinciale della Lega, Riccardo Cavirani, ribadisce la contrarietà alla mancata richiesta della bandiera blu che ha scatenato la crisi politica. È però evidente, afferma, che la scelta del primo cittadino di privarsi di un vicesindaco eletto, con moltissime preferenze, apra a una riflessione sulla ricomposizione della giunta. Insomma, non la semplice sostituzione di un assessore, ma un rimpasto di giunta, cosa gradita anche da Fratelli d'Italia, che da tempo rivendica un posto. E il sindaco, interpellato sul tema, sembra non chiudere affatto a queste ipotesi. Se ci sono novità va bene, non chiuda soluzioni migliori, ha affermato. Il dialogo è aperto con tutti, senza limiti a niente. Grazie. Grazie.